Si fa già interessante l'arrivo del ballerino tra le fila di Maria De Filippi, ieri la maestra ha lanciato una provocazione, oggi la replica. Raimondo Todaro professore di Amici 2021 sembra ormai una certezza, ma sempre meglio attendere l'annuncio ufficiale. In questi giorni qualcosa si sta smuovendo e ieri è arrivato a sorpresa un messaggio di Alessandra Celentano. Il destinatario era proprio Todaro, che si sta preparando a sbarcare nel mondo di Maria De Filippi. In realtà Amici gli ha spalancato le porte già nella passata edizione, quando Raimondo è stato ospite per una sfida interna di ballo. La sua partecipazione aveva destato non poco scalpore, visto che era un volto storico dei programmi di Millie Carlucci. E la cosa lasciava presagire uno scambio di ballerini. Alla fine lo scambio c'è stato, Raimondo ha annunciato l'addio a ballando con le stelle, lasciando di stucco proprio la Carlucci. Non è ancora arrivato l'annuncio dell'arrivo ad Amici, ma se ne è parlato ed è ormai nell'aria. Ieri infatti la Celentano ha invitato Maria a prendere il mondo in squadra. Oggi Todaro ha risposto. La maestra ha ammesso che le piacerebbe avere Todaro come collega per dimostrargli che la danza è una. La risposta del ballerino è arrivata tramite Instagram. Cara Alessandra, anzi scusi. Maestra Celentano. Sono pronto. Il rischio è che se verrò forse finalmente tu. Anzi lei, vedrà che la danza non è una sola. Ma ci sono tante sfumature. Il ballerino ha aggiunto degli occhiolini a fine messaggio, insomma tutto ha assunto il tono di un gioco. Di sicuro Raimondo ha accettato la sfida ed è pronto a dare del filo da torcere alla maestra. Tra i commenti i fan sembrano già molto divertiti. In un commento si legge che come inizio non c'è male e che ne vedremo delle belle, non si può che essere d'accordo. I due professionisti. O chi per loro ha studiato questo modo per annunciare l'arrivo di Raimondo Todaro ad Amici. Stanno divertendo molto il pubblico del talent show e tenendo viva l'attenzione. Tra i tanti commenti c'è anche chi non sta gradendo questo scambio di battute prima dell'inizio di Amici 21. Per esempio qualcuno ha scritto che Todaro comincia male l'avventura, se si presta dei teatrini. Come si legge in un commento. In realtà, come già ha spiegato poc'anzi, queste interazioni tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro sembrano studiate a tavolino per arrivare all'annuncio ufficiale. Allerone Allerone Grazie.